L'attenzione nei confronti della pandemia da parte della medicina continua a essere massima. In quest'ottica, la tematica Covid-19 sarà uno dei temi discussi nel corso del prossimo incontro organizzato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caltanissetta. Sabato 17 dicembre, infatti, a partire dalle 8, i Medici Chirurghi si incontreranno nell'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, in corso Vittorio Emanuele, per un corso di aggiornamento in pneumologia dal titolo Le opacità polmonarie e l'insufficienza respiratoria, esperienze cliniche in epoca Covid. Il corso è accreditato presso il Ministero della Salute e al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla Commissione ECM. I partecipanti, inoltre, dovranno anche compilare un questionario di valutazione. Insieme ai professionisti esperti del settore, verranno approfonditi diversi aspetti che riguardano l'ambito della pneumologia dell'impatto del Covid-19 sulla gestione della malattia neoplastica all'evoluzione storica della terapia nel tumore polmonare metastatico.